surprise sono contenta di partecipare anch'io alla tua festa di compleanno certo sarebbe stato meglio carissimo zi Enrico di essere lì di persona ma come tu ben sai non è stato possibile arrivare a 90 anni zi Enrico in ottima forma come nel tuo caso è veramente un dono prezioso come scrive Papa Francesco nel suo messaggio comunque io penso che i tuoi 90 anni non rappresentano semplicemente un traguardo ma anche un altro punto di partenza per te perché credimi zi Enrico tu hai tutte le carte regole ci sono tutte le premesse per arrivare ai 100 io te lo auguro di cuore e ci conto prima di arrivare a 100 però perché non pensi a una a ritornare in italia a fare una bella vacanza insieme a tutti noi noi saremmo felici e io penso che tu saresti anche contento di trascorrere un po di tempo ancora con zio Mario e anche con mamma pensaci promettimi che ci penserai enjoy the party have a good time and I'll speak to you soon ciao Tanti auguri zio Enrico per i tuoi 90 anni auguri happy birthday ciao a tutti carissimo fratello sono veramente dispiaciuto di non essere lì con voi per festeggiare questi meravigliosi 90 anni che si è riuscita a arrivare con con tanto amore grazie comunque a valeria e a maria le due bellissime figlie che ti hanno organizzato una bellissima festa e ti auguriamo tanti tanti auguri con tanto amore sono veramente emozionato anche a parlare con il telefono qui però ricordati noi siamo vicini a te e tanti tanti auguri con la speranza comunque che quando compierà i cento anni ci rivedremo tutti e con tanto amore auguroni auguri ciao buon compleanno auguroni ciao Enrico tantissimi auguri di buon compleanno con tutto il cuore speriamo di vederci ciao spegni 90 candeline tutte 90 ciao ciao